Siamo qui nel parcheggio di Red Italia. Ciccio, vieni qua. La focoleria, signori e signori, live per il nostro divertimento di Talent Uno! Siamo qui! Siamo qui! Siamo qui! Siamo qui! Siamo qui! Un bell'applauso, grazie in studio! Un bell'applauso, grazie alla focoleria, faceva anche Freschino. Quindi abbiamo fatto un po' ceneggiata, poi siamo battuti e ritirata.